Buongiorno, buongiorno, siamo ritornati qua su Ciancin Allora, direi di fare la storia, anzi, l'evento, partiamo dal test run Facciamo il test run e passiamo a vedere Itto Oggi ho un problema agli occhi, quindi non potrò stare tantissimo Spero che non sia troppo lungo la storia Beh, mi piace questo Ha un sacco di danno Vediamo com'è la supermassa, wow, che ficca Non ho ben capito Quello di potere sia, ma questo sia una roba di forza Ma questo cane qui, che serve? Vabbè, facciamo l'altro try Ho già problemi Salute Poi stanotte ho dormito Tranquillo, questa mattina mi sono svegliato con un forte raffreddore Problemi agli occhi Boh Allora, vediamo Cioè, vediamo una parola che era grossa Non credo che troveremo Itto Nel senso che Io abbiamo trovato Albedo Un po' durato, ma posso trovare subito Itto Ci vorranno un bel po' di pull Però adesso mi sa che ne possiamo fare solo dieci Allora, sicuramente fortuna Ma lui non mi piace molto Però Ma lui non mi piace molto I must leave no stone unturned As a good night should Steady as stone Submit Submit Oh, so subito Free race Rally Buoh, non amo molto gli arcieri In generale Ok, adesso iniziamo la serie di Itto Dobbiamo mettere su Cosa sull'occhio prima Allora Allora Metto questo Facciamo così Una bella cosa Tante volte che devo streamare Jenshin Ma porca miseria Mi viene sempre Problemi agli occhi Metto questo Metto questo qua così Questo qua E amo Se ce la faccio così No, sì Ho svegliato a schiacciare Mamma mia La lentezza Svegliato a schiacciare Oh yeah Paparapaparam Papararam Dai che poi dopo In teoria vorrei fare Un altro gioco Se Riusciamo a fare in fretta Ok Partiamo con lui Dovrei fare anche Finire bei due ma lo faccio Più anzi Ah l'occhio Cazzo sto scherzando Non vedo un cazzo Vi giuro che non vedo un cacchio Ah i burscheri agli occhi Ma perché non mi fa Ah l'occhio Porca miseria Ah non lo so Prima ho fatto un pezzettino Non ci vedevo Adesso mi pusciano gli occhi Guarda da caso Copio adesso Non ci vedevo Che dice Porta Placca Si Si Aspettare Questa è 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 Grazie a tutti. Scusate ma non posso leggere, non ce la faccio però posso seguire con voi. Purtroppo proviamo un occhio, signore, ma se scrivete intanto chiacchieriamo, cercherò di leggerli. Qua non riesco perché lo schermo mi dà un po' fastidio oggi. Non c'è nulla, non c'è nulla. 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 C'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. C'è nulla. Non c'è nulla. 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 ha confiscato la visione durante il decreto di visione. Nel momento, Arataki Ito ha fatto una strada. Poi prende una enorme quantità di potenza e risorse, e in l'ultimo abbiamo dovuto sorgere la scuola di Kujo Sara per finalmente segure la visione. La visione di visione era un errore, ma non abbiamo mai pensato che sia a così estremamente per prendere la sua riunione. Il sembra un po' un po' unstable, Certo, proprio come le persone hanno detto. Se due voi potete capire Arataki Ito, lo portate qui. Ci saranno qui. Grazie per la informazione. Non c'è tempo per perdere. Certo. Arataki Ito? Sì, ho sentito del ragazzo. La parola è che ha fatto qualcosa monumentale stupido, poi si riuscì prima di capirlo. E, per essere completamente sincero, ero un po' sorpreso quando la prima ho sentito. Ok, beh... non è così sorpreso. Aspetta! Dice che ha già avuto una buona reputazione? No, non esatto. Buonasera, Gordito. È Jenshin, è bellissimo. Ci sono fra un po'. Prima volevo fare questo perché c'è l'evento nuovo. Poi oggi ho pure un altro problema. Mi bruciano gli occhi, non riesco a leggere. come li sto facendo a andare avanti i filmati. Oh, madonna santa. Mamma mia. Sto capirci niente perché non sto seguendo. quando qualcuno ha chiesto, è disposto a leggere a aiutare la mano, ma, oltre a questo, è solo il Pai Man, vabbè, non dico niente. Ok, a dopo. Mamma mia. Grazie. Allora, dove dobbiamo andare? Bene. Di qua. Sì. Dentro la Locanda? No, dalla Detective. Eccola qua. Ah, mi sta riprendendo un attimo. La mia vista sta funzionando solo da un occhio. Vediamo se riesca a leggere. Sì. Ho risponde. Abbiamo già fatto qualche investigazione per la Commissione di Tenryo. Ma, prima, hai sufficienti di moro per coprire la fine? Ho sentito tutto sui viaggi. Ho detto il cazzo che risparisce. Eh? Non ce li ho tutti i soldi. Ma forse sì. 397 ce li ho. Sì. Ok. Ok. Proseguiamo. No, c'è il video. No, c'è il video. Il cazzo che si trattava. C'è il video. A un occhio che c'è un occhio. Ma era pericolosa. Un occhio. Un occhio. Un occhio. Un occhio che pensava a spiegare gli occhio. Ma erano pericolati. Un occhio. e gli uomini quando arriva a venire. Quindi il bluoni ha detto al crimsononi, Acca, il tutto ha causato probleme in il villaggio, tu vieni e stopci me, poi i humani ti accettano. Come avuto, il crimsononi ha chiesto il bluoni di fuori. Il crimsononi di un'idea spreada all'interno della terra, e le persone finalmente accettano. Ma quando il crimsononi ha detto al bluoni di un'idea di buona notizia, lui è fuori, e ha lasciato solo una lettera. L'avevo via, non vieni a me trovare, oi si trattano a te un'idea di un'idea di un'idea. Ma non ti preoccupi di me, non importa dove andiamo, sempre saranno amici. Sì? Cosa di il piccolo bluoni? Cosa è successo? Penso che il bluoni non si è dissiperato, non mai essere visto ancora. Solo il crimsononi rimane adesso. Ma... ma... il bluoni è proprio un piccolo figlio! D'accordo che si fa! Inoltre non mi non avrei avuto tutto il problema di raccogliere. Una interpretazione è che la storia è fondata in strumenti di storie, e che Arataki Ito è, in realtà, un discendente del crimsononi. Lo che ho cercato di dire è che noi abbiamo scoperto molto in passato per ottenere la società di rimanere. Ma ancora ci sono dei similii volatili in la linea di Oni. Questa generazione di Oni ha ricevuto questi tratti, quindi mentre Arataki Ito non è mai stato conosciuto a comitare un attenzionato in passato, potremmo potremmo direttamente la possibilità di un giorno permettere a questa parte di lui prendere? Ma... come si può fare questo? Dopo l'Oni blu? C'è una storia molto vecchia. C'è una storia molto vecchia. Nessuno ne sapeva quanto l'Oni blu? Possiamo solo assumere, che hanno già finito. In questo caso, è abbastanza un attenzionato a dire che è ancora un attenzionato a questo punto. Inoltre, il sospetto ha già confessato. Cosa c'è per discutere? Secondo la mia investigazione, è stato in passato sul sul. Credo che è già arrivato a Yashiori Island. Cosa c'è anche un attenzionato a questo punto. La Commissione di Tenryo non può entrare territori controllo di Sanginomiya. Non è sicuro che è la reasona che Arataki Ito è deciso di evitare in quella direzione. Non ne dimentichate, sono solo facendo mio lavoro. Cosa c'è? Pimenti ha ancora una questione. Se Arataki Ito è stato dato a il suo sideo di un attenzionato, non è che questo significa che è più brutto e violento? Cosa c'è un attenzionato? Cosa c'è da prima un attenzionato. Cosa c'è un attenzionato professionista con molto brutto attenzionato. C'è se che tu farmi lo capire, non ne lo sape. Ok! Ma... Cosa faccio ai persone che fornano di due minuti al Oni?! Qual è l'unico? Cosa cosa è l'unico? Ah, sì! Dopo che tu poccasi, sembra che Aretaki Ito è allergico a due minuti. In fact, tutti i Oni evitano le bambini, ma soprattutto Ito. Mi sento che solo toccare un bambino è sufficiente per incapacitare. Se tu potessi evitare un po' di triggere gli allergici, potremmo potremmo fare l'allergia. Certo! Sabendo che il soggetto'e avanti farà le cose molto più semplici! È così che ho un bagno di bambini qui. Mi stavo cercando di usare per farvi un po' di poraggio, ma credo che tu farai un migliore per loro. Ok, dobbiamo andare da Shori Island, che penso sia una zona nuova. Allora. Facciamo prima trasferirci. Infatti, perché è un po' troppo lontano. Allora. Qua sotto. Da, la porta. dopo proviamo a fare anche qualche pull qualche wishata ma penso che non lo troverò ancora perché io abbiamo trovato albedo allora usa le mesoncette che tratta? che cazzo devo andare? qua c'è da fare un combattimento qua sicuramente l2 e cerchio no non mi hai visto sono nascosto l'abbiamo 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 l'abbia l'abbiamo 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 ma vado a vedermi dietro la roccia Sì. 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 Quindi devo tirargli una botta. Ma come fa a vedermi dietro la roccia? Pah, non lo capito. Non lo capito. Non lo capito. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti Ah ce l'abbiamo fatta Dopo 500 milioni di tentativi Poi non ci vedo neanche bene Non ci vedo nemmeno Non ci vedo nemmeno È solo che la mia allergia si tratta Ho ho fatto sotto controllo È tutto bene, ho ho fatto 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 In un momento Ho ho fatto 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 Oh, è l'acqua Mi piace Il tuo style Hehehe Allora Ma prima cosa Ho ho fatto Ho ho fatto Unicabuto Ho ho fatto Ho ho fatto Ho ho fatto Ho ho fatto Il momento Ho ho fatto Siamo 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 Prove moment In doing Come Una Do Di Tempo does soap O Hai Non Weather Descramento Che tipo di game è Beatlefighting? Voi avete visto Onikabuto in l'occhio, certo? Anche che potrebbero sembrare menaci sull'interno, sono grandi softies sull'interno. La maggior parte del tempo, sono solo senti qui facendo niente. Devo dire, una volta che Onikabuto iniziano a combattere, ho, 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 non li farò nulla. Il grande game di Beatlefighting è un match in cui la tua Beatle tenta portare l'altra Beatle sull'altra. Hey, non è solo un game di bambino, ok? Certo, c'è davvero più di questo. Io ho fatto parte in più di Beatle che ci credi, almeno 800. Mi potrebbe anche tracciare la 1000 mark a questo punto. Inoltre, dopo un tempo, puoi sapere il potenziale di Beatle solo per guardare la sua forma, la sua forma e le patrini sul corpo. Ma non è solo la cosa fisica. Oh no, il tuo Onikabuto deve essere in l'occhio corretto anche. Se non è arrivato per un lontano che non ha i corretti, allora è finito. Oh no, il tuo Onikabuto è troppo che mi riusciti. Quando si parla di Beatle, sono l'experte che gli esperti vanno. E farò vedere tutto ciò che bisogna sapere. Ma non ci siamo tutti gli che giochiamo. Noi, siamo solo qui per guardare l'occhio a te. Oh, inoltre, non è un problema. Voi voi potremmo pensare che sono proprio toccato le loro corretti, ma solo tui aspettare. Io ti rendo un'experto di Beatle in nessun tempo. E, per esempio, questo bambino ha un'esperto di Beatle. Non possiamo indirizzare. Hai bisogno di trovare un vero reale, vero, Ok, ok, quindi non è l'esperto più forte sul Onikabuto. Ok, vediamo... Ah, andiamo a quella piazza. Credo che la mia botta mora ci siamo trovati un'esperto di Onikabuto a trovare un'esperto. Oh oh! Un'esperto! Un'esperto! Ah, solo il nostro successo. Beh, spero che... Oh! Dorni, sono tutti vissi! Allora, andiamo a andare da qui e prendere un'esperto. Il mio cuore... Oh, guarda! Vedete tutte queste stracali? È un'esperto di Onikabuto... Oh? Oh, che... Oh, non! Non i meloni lavandari! Beh, anche un pro come me stesso può fare un errore di tempo a tempo. Questo è il mio! Ok, devi andare con i punti. Vediamo... Asi che sei in mia compagnia, tu ti garantissi... Eh, è sul più piccolo, ma il suo più non è tutto in una città di Onikabuto. Allora, Buongiorno abbiamo già stato fatto da le guerre che, la potenza all'esperto stanno trattando nelischenio per quanto si vede stato un colo ampio. Hey, non potessi non preoccuparti? Comello, nutre una perta di creare. Cosa mia esperienza che ci ha detto che... Oh, uh... Uh, you got some experience catching beetles, too, huh? Nope. This is the first one pie months ever caught. Well, looks like you got a real knack for this. You'll be a fellow beetle fighting expert in no time. I mean, not as good as me, but... Let's go. Oh, so overall, I'm not that good, then. Uh, anyway, great. With both your beetle in mind, I can tell this will finally be the one. This time, I'm gonna win for sure. Well, you know, that's just life, man. There are so many people in this world who are talented and passionate, but it's no guarantee that things will go their way. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's, uh, co-incidence. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have time on beetle or not, then. Might as well, Jess. Whoa, 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 whoa. Let's not do anything rash here. I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never leaves a good beetle behind. Anyway, uh, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Woo! Let's go! Make my escape. Oddio, il combattimento tra... Eh, ma quello di destra è più grosso. Oh, no! My little nimble ninja! Ha! Looks like I win again! Dang it! Ugh, it's my seventh loss in a row. Heh heh! Stripey Ghost is invincible! Even Uncle Ito can't beat him. I won't forget this. I'll beat you next time. I swear! All right, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. Maybe it'll end this losing streak of mine. All right! Go get him, Crimson Cyclone! Whoa! That one looks ultra strong. But it's still no match for you, Stripey. He he he! All right, little guy! Use your Super Paimon Torpedo! No! I can't believe it. I lost. Yay! We won! Ha! Paimon knew Crimson Cyclone would be the best! Boy, did that one put up a fight. Woo! It wiped the floor with Stripey Ghost. I know a real Beetle trainer when I see one. Way to kick some Beetle butt, partner. He he! See? Paimon's got real talent! Of course, Crimson Cyclone has to take some of the credit, too. Oh, right. Yeah. Now that the Beetle fighting's over and all. Hmm? This is for you, Daisuke. Huh? For me? You're really giving it to me? Go ahead. Take it, Daisuke. When we finally get back to the city, you can show it off to all your friends. But will we ever be able to go back? Of course we will. Trust me. I never go back on my word. Anyway, I got some things I got to discuss with my friends here. Go play with Granny for a while, would ya? There's a good boy. Good. The kid doesn't suspect a thing. You're from the Tinryo Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. Huh? Hey, didn't I tell you? They're my friends. In fact, they're in the gang. We're practically family. That's not true. I already know everyone in your little gang. But I've never seen these two before. Uncle Ito didn't do anything wrong. Don't take him away. And not only did he not do anything wrong, he also saved my life. He's not... Hey, uh, some things we don't tell to outsiders, remember? Uh, how should I explain it? I'm, uh, real lousy liar. Ito, sometimes you need to just say what you have to say. Don't worry about us. I guess. Thanks, Granny. Seems I can't hide it anymore. Come with me. I'll explain everything. I'll be honest with you. This thing the Tinryo Commission is investigating, with someone going around taking people and their possessions, it wasn't me. Any of it. I have my own reasons for lying about it. And I really didn't want to get innocent people caught up in this while I'm still trying to solve the real problem here. I'm the same as you. I just want to avoid conflict at all costs. But it's just not worth it if someone gets hurt. So why in the world would you say that you're the culprit? Maybe you don't know because you're outlanders, but it all started a long, long time ago with the story of the Crimson Oni and the Blue Oni. Hold on a second. If you're talking about that fairy tale, we've heard that one already. Oh, so you already know. Well, that makes things a whole lot easier. So, is the story from the fairy tale really true? Everything about the fate of the Oni is true. The Blue Oni chose exile, and the Crimson Oni stayed behind. But the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but there's something they leave out. It's a little thing called the cold, hard truth. The Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to have a good relationship with the humans. The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. Over time, the Oni eventually split into two factions. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni? They were more stubborn and insisted on keeping to their own. Ina thought you were two different species. So really, you're all one family? Yep, that's right. There's no real difference between us. We just paint our horns different colors to show which side we belong to. Because humans were still wary of Oni at the time. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the Blue Oni kept clashing with them. Humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue that way, the Oni were never going to get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of Evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave two conditions. Huh? What were they? First, the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them. The Oni were not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength to win respect from the humans. In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride. After choosing exile, the number of Blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared altogether. Since I first heard the story of the Blue and Crimson Oni as a kid, I've heard it countless times in my life. Not once did I ever imagine that the Blue Oni clan had actually survived. So you're saying the real culprit was a descendant of the Blue Oni? That's right. Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that Blue Oni exists. But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different color horns than mine. Still, it would be strange if the culprit really was a descendant of the Blue Oni. I can't bring myself to accept it. Exactly. They would give up their life before abandoning their pride. I've always respected the Blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had for the future of all Oni. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't steal from other people. You don't harm other people, period. My guess is that the Blue Oni was tricked or forced into itself. That's right. If I didn't step in, the Tenryo Commission would have definitely caught them by now. But what does Daisuke have to do with any of this? He said that you saved him so he knows your story, right? He was the one I managed to save from the Ronin after I sent them running from the sea. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. By the time he came back, his parents had been taken. The whole reason I'm in this is to help this kid find his mom and dad again. I never wanted to tell you any of this. My original plan was to knock you both out and take my family to hide somewhere else. There's more to this than just one Blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. I didn't want to get anyone else caught up in this mess. That's everything. The whole story. If you don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then I'm going to fight you with all I've got. But if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Once I've found the Blue Oni, I'll turn the both of us in. Yep, I'm on cue. Just tweet it like we're here to keep an eye on you. So, you... All right. I knew you'd be reasonable. I knew it. I was thinking right from the start. These two fine folks, they're just out here in the pursuit of truth and justice, man. Yeah, we are going to get along just great. I should tell you, though, things could get a little dangerous, so be ready for anything. Don't say that I didn't warn you. Don't worry about us. We're season adventurers. All right. Then our first job is to investigate where this Blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge at Sangonomia's camp. I figure we can start by talking to him. Make my escape. The insolent shall be puns well. Let's go. Oh! Faccio l'escapamento. Faccio l'escapamento. Ciao, devi essere Masato. C'è un'oni? Oh no, non un'altra! Oh, eh, sì. Non l'està che ti scocchi, quindi, eh, tranquillo. Mi contattavo prima, ricordi? Ne ho bisogno di voi. Oh, certo. Scusi. Mi sono ancora un po' azzurro dopo l'incidenza. Quindi, in ogni caso, è quello che è successo. Mi sono venuto trasportando alcuni bambini quando un gruppo di ronini mi attaccato. Non è la prima volta che mi è successo. Adesso, ti mandi un po' azzurro, e le faranno giallo. Almeno, non ti perdono i soldi. Ma questa volta era diverso. Non si capiscono di parlare le cose. Inoltre, si prendono le cose e mi sono arrivati. for me i got down on my knees bank said I had a family to care for and that my business is our only livelihood then I saw that there was an only among the group I thought he was gonna be the one to finish me off but instead he stopped the others and told them to let me go yeah that got them all arguing with each other his cohort said that I was sure to retaliate if they released me but the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me things got real heated not that they were gonna come to blows luckily they let me escape with my life in the end and I scrambled to get myself here where I'd be safe huh I never want to set foot outside of here again so he'll steal but he won't harm people seems yes some sort of standards did he say why they were robbing you surely it was mora right what else could they have wanted with me I mean I can't say for sure it's not like I asked but what I did hear them say was the goods are worth more than the merchants life or something like that that idiot Oni do you have any idea where they went after they robbed you I have no clue but I think they're pretty active in the Tatarasuna area you weren't gonna go after them are you seriously I'd advise against it there are too many of them and they're all heavily armed I don't worry it's just a bunch of no-name scumbags I got a whole laundry list of scores to settle with them if these two islands are where they tend to hang around we're sure to run into them at Nazuchi Beach sooner or later you 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 riferirci. Sì, potremmo essere un po' di più, quindi dovremmo essere preparati. oh here they come yeah there they are and one of them has horns all right it's go time let's get them can't catch me it looks like you fellas aren't going down without a fight fine by me fight first talk later how's this no it's my lucky day oh he's coming through hey don't even think about running it's me arataki ito descendant of the crimson oni i know who you are from the day we are born every blue oni knows their purpose we all know our fate is one of self-sacrifice but what about the crimson oni you don't know anything about us not our miserable history or any of our names mine's takuya by the way but you don't even care do you because those who get sacrificed should be forgotten right no you're wrong i never knew the blue oni had survived to this day and the moment i found out i was determined that i would find you since you remember the pact between our two factions i assume you also remember the pride we share as oni so my question is how could a proud oni like yourself go and abuse the weak and plunder the innocent why break the oath that our kind swore all those years ago huh what's so funny who are you to talk about pride and oaths with me the blue oni gave up everything just so the crimson oni could live peacefully in human society but let me ask you arataki ito what exactly do you contribute to human society you're a blundering fool who can't hold down a real job a laughing stock of the town and worse still you let them get your vision during the vision hunt decree protecting the oni pride huh you wouldn't know how if you tried you're a disgrace to the oni kind hey come on none of that stuff's a big deal i mean wait you're really hanging me out to dry here man since when do you care what other people think you just do whatever you want it's not like anyone can stop you but do you have any idea of the kind of life my kin and i have lived while you've been hanging around in human society we were cut off from the rest of the world we severed all contact with it and since then we've had no place to live no stable source of food no clothing no medicine nothing besides the oath we swore to uphold in our so-called oni pride we had nothing so that's why you joined a band of thieves that's right why should i accept that life is holding fast to a worthless oath supposed to help me provide for my family and friends i've abandoned our oni pride it's meaningless i want to live i've given everything that i've stolen from humans to my community what i've taken will at least keep them from starving and ease their pain that's what matters most to me yeah besides the blue oni sacrificed themselves so that oni could be accepted as part of human society if people see oni causing trouble again then that'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made you make a good point but arataki ito's the one who needs to get that into his thick skull the blue oni are the bad guys so we're expected to do bad things our actions won't tarnish the reputation of the crimson oni unless of course this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself completely destroying the trust between humans and the crimson oni in the process he's the one that wasted the sacrifice we made huh i only had to do that because of you i couldn't just stand back and let the tenrio commission drag you away you should get your priorities straight the blue oni are history all right forget about us the crimson oni are the ones who must live on why couldn't you have just stayed out of this there they are seize them oh no it's the tenrio commission forget it this was a waste of time anyway look i don't expect you to understand me but you could at least take a look in the mirror sometime hey hey we can't get caught here looks like i'm up to bat just wait here we'll escape together when the time's right whatever you do don't attack any of the tenrio commission they'll be after you too come on men he won't get away this time just give yourself up our attack let's run you cannot match my bravery but you must withdraw i won't forget this a a se come sono che sono i a ci e mandare i nostri amici amici bluoni, ma devo sottolineare le cose con lui prima, da uno per uno. Quindi cosa dobbiamo fare? La commissione di Tenryo è arrivata a te arrestare! Ah, non c'è l'esplice ma di continuare a tirare un po' di Tenryo! Hey boss, pensi che avessi avuto tutto il divertimento senza noi? La grani Oni è riuscita, stiamo qui per dare una mano. Magari non possiamo prendere, ma possiamo sicuramente spettare. Ora è la possibilità, vai! No! Hey, ho detto che stai fuori di questo. Beh, siamo in questo ora. Vai, non c'è tempo! Vai! Fa lo che hai dovuto fare, boss! Allora, allora. Guardate a tutti. Asi che sono finito, sono tornato per te. Vai, voi due, è il momento di riuscire! Non lascia che li vanno! Dopo loro! Hey! Voi avete un po' di questo? C'è abbastanza per andare! Nessun tipo non pensi che vorrei mai capire. Voi da, boss! Ma se sono, boss! Voi da, boss! Voi, boss! Voi, boss! Voi, boss! Voi, boss! Voi. Voi! Voi. Voi, boss! Voi, boss! Voi! Let's find Takuya. It was real touching and all what they did. But those few guys weren't much of a gang. Hey, it takes Mora to run a gang, okay? They're all I've got for now. Thank you. Thank you. Thank you. Inventure time. A wrecked cart and some goods. Look alive. We've got company. We've got company. Everybody stand back. They definitely don't want us going any further. Let's see what's waiting for us up ahead. Huh. Besides the footprints, there are other signs of life here too. Must be plenty going on around here. Let's investigate. They couldn't have just disappeared in a thin air. Unless they're all ninjas or something. hit an entrance. Yes. All right. I think we just found their hideout. This is going to be where they keep all the people they took. I don't think Takuya's probably in there as well. Huh? Oh. Fire away? Of course I did. Come on. I'm not that dumb. But it takes a world-class blockhead like Takuya to think his ideas are actually going to work. So I'm here to save him no matter what. Huh? What were you two talking about? Are you keeping Paimon in the dark again? Awh! What are you guys doing? I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go. What happened? I'm here to go. Nah. Let's do this. Io dopo vado a lavarti i capelli, mentre sono una volta che hanno portato quelle reali, quelle nere. Wow, questo posto è enorme, è abbastanza piccola per una scuola. Tutti acquiati da meno che legittimati, sicuramente, e più di più ragazze che abbiamo bisogno di farlo a questo. Attaboy! come è questo? come è questo? a la ferie finally a la ferie no can't catch me how come the stairs are over there? we can't go up if we can't reach them no problemo that'll be what this mechanism's for it's showtime no problemo no problemo Oh, è moving! Oh, è vero? can't catch me can't catch me Grazie. 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 Can't catch me. Grazie. 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 Oh Oh All right, you're all ready to go now. I'm sorry, but have you seen our little boy? We're awfully worried about him Calm down, dear. We don't even know if he was taken here or not Oh, you must be Daisuke's... Yes, that's right. Have you seen him? Where is he? Is he all right? Don't worry. He's safe and sound. Someone's looking after him now on Yashiori Island. I'll show you where on the map He's been worried about you. I bet he'll be relieved to see you You were the one who saved him? Oh, thank you, thank you No, no, please. No, no need to thank me. It's my pleasure, really Before you go calling me a hero, let me ask you this Wouldn't any other self-respecting guy who... Really? Just one little compliment and it goes... These vagrants are insatiable They'll do anything for money No one dare stand up to them for fear of what they might do Would they really do anything drastic? Um, no, actually, because one of the guys, the one with Oni horns on his head, has always shielded us so far Oh, in fact, his horns look just like the ones this guy has At night? He would secretly bring us food and water I don't understand what he was trying to do Are you a friend of his? Or perhaps a relative? Uh, relative, I guess Oh, maybe there's something secretly troubling him He seems different from the rest of the gang They seem like heartless crooks, but I'd say he comes across more like a confused child Let me put it this way There are a few things he needs to straighten out in his head And I'm here to point him in the right direction I'm glad to hear that He's lucky to have family like you Don't worry He'll be in my trusty hands I'll help them see the light Anyway, you should scream Yes, thanks again You've rescued our entire family Ok, apriamo questo scrigno Poi Do we go there sopra Ah, apriamo da vedere cosa c'è di qua Non c'è niente Neanche Qui c'è un altro scrigno E di qua C'era quello scrigno che abbiamo preso prima di qui Allora, per salire là sopra Quel casino Eh, però Mi cazzo ci salgo là C'è qualche altra lievola a tirare Questa no Allora sarà quell'altra Ok Non è sparito Ah no, ho sparito in sostanza io Ah, giusto Scusa Ah no, è vero C'è la scaletta Eccoci qua Ma porca miseria Pensavo che non c'era il buco Beh, un attimo Rinfocilliamo Si può rinfocillarlo un attimo? No Allora, cambiamo personaggio Perché questo mi sta per morire Allora, di qui Ma non salta Porca miseria Non lo saltava C'è una cagata del genere Ora salta Ok Eccomi qua Dò un'occhiata Sui tetti non si può salire, giusto? Non so se c'è un cazzone No Buongiorno, eccomi Sui tetti non si può salire Eh, dovete risolvere un po' di vita qua Fatemi uscire Una vita Perché perdono tutti vita? Beh, facciamo che moriamo, va? Cioè, tutti hanno perso vita Ma manco gli usati questi Ah, perché sono elettrici Oh, ma adesso non posso usare nient'altro Non mi fa Eh, ma non mi fa dargli la vita Oh, ok Possiamo accelerare un po' Eh, che lento Ma perché Allora 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 Oh Uh newsflash don't care about your cute little origami obsession You better stay where you are let me finish aren't you curious what the other piece is used for? I'll tell you it's now the critical component of the mechanism and when it gets torn this place goes up and smoke Yeah, the whole hideout is rigged with explosives and ready to blow What you're gonna blow this up like that? Oh, don't worry about me. I made sure that I've got an escape route the rest of you though You're gonna be buried deep among the rubble you've had your fun I'm sorry are you looking for this yes? I snatched it earlier to stop you from doing anything hasty You're one talk what about burying everyone here? If you ask me that sounds like you've already betrayed our agreement, no? You done talking now, huh? You sure great I'm done listening Yeah Great work, Takuya you arrived in the nick of time stay away from me, huh? I said stay away or I'll tear the paper charm Hey, okay, okay, fine, just calm down What are you doing? Just because I won't let him blow this place to bits doesn't mean that I won't do it myself Unless you want to get buried you should leave this place now take everyone here and get out You won't go through with it if you were that cruel then why bother protecting every person you've come across, huh? I'm not here to reason with you Go just get out of here this sacrifice is mine to me mine alone Why couldn't you just stay out of it? No one needs to sacrifice themselves all right then you tell me what am I supposed to do? I've tarnished our only pride and abandoned our ancestors oath Only sacrifice can restore my pride now. I chose this path so I could provide for my fellow only I was ready to die from the very beginning This is between us blue only But you if it wasn't for you, they're here. We won't let them slip away this time Hey Tenryo Commission, I'm the one you're looking for I did it. I'm behind everything Our Takai Ito is innocent You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here Nolo cattivo in città Non ce lo fanno vedere Ito is trying to reenact the fairy tale Sacrificing himself for the crimson Oni Ignore him, he doesn't know what he's talking about It's me you've been looking for and here I am How you ever gonna report back without capturing me? Stop fooling around, Dito Listen Takuya, sacrificing yourself won't solve anything Tuo sacrificio non può proteggere me o tuoi amici, e la tua vita non farà più di più. Sacrificare a te stesso è un modo per evitare la tua vita, ma l'unica cosa che tu sarai liberi è te stesso. Scusate, vuoi essere il ragazzo? Beh, questo è il cammino di fuori. Non lascia il sacrificio per la nostra oni. Le bluoni hanno stato scopo la parte della barra di tutti questi anni. Quindi, daremo loro un nuovo principio. Abbiamo fatto scopo, ma possiamo farlo per loro. L'unica non è stata amata alla oni? Allora, facciamoci e cominciamo! Ma prima di tutto ciò che possa succedere, bisogna prendersi a me, e perdere tutto ciò che si tratta. Allora, andiamo. Ma non parliamo di parlare. Takuya! Ma io ci consequently avresti già in grandeanza. Oggi ciò che avresti attraversi. Lo, guarda. È questo? Là c'è tutto. Guardate! Ehi, ho ho questo. Come on! Lassateci me! Voi! È quello che ho dovuto! Oh, shut up, would you? to be continued Ito and Takuya C'è quello che ha fatto con i vici? Ho detto che saremmo bene, non ho? Ho sicurato che saremmo molto più sottile se non fosse per l'attacco brutale di bianca di anni fa. Cosa? Cosa farebbe questo per me? Sono il culo di qui. Non mi serve questo. Perché siamo Oni, questo è quello. Cosa condividiamo il stesso sangue, fratello. I nostri bambini e i loro bambini non ha insegnato che sia bene per abbandonare la famiglia e la mia. Cioè, vorrei che venissi a me trovare in più. Se tu conoscivi all'inizio, allora dovresti venire e mi chiedere. Io non avrei mai pensato di tornare a te scoprire. La blu Oni scopriva così che non portasse problemi al crimsono Oni. Se avessi venire a te per la scoperta, potrebbe non farci tutto ciò che la blu Oni ha fatto? Non per me. Ho sempre rispettato la blu Oni per il loro sacrificio. Non ciò che hanno fatto era in vain. È solo perché di loro che abbiamo vissuto per vedere oggi. E abbiamo costruito un mondo dove Oni e l'humani possono vivere l'altra parte per l'altra parte. Inoltre, tutto ciò che ho adesso, l'agravo a la blu Oni. E mi raccomando, la Inazuma di oggi non potrebbe vedere a te come un villaggio solo perché della colorza dei tuoi occhi. Tu ti dice tutto ciò, ma... Inoltre di tutto ciò che non stai finendo. E' proprio come mi rincavo, ragazzi. Tu ricordi il paio, non? Non dovremmo sorgere con i l'humani. Siamo dovremmo ottenere il loro respetto. Tutti, tutti i ragazzi dell'aritake hanno avuto un po' difficile per cercare. Per esempio, Akira. L'agrava come si non crede. O, Genta. L'agrava un problema serio. E Mamoru? L'agravo. L'agravo. Anche Granny Oni. L'agravo il nome per prendere me in come figli. L'agravo. Siamo tutti i ragazzi e i scopri, ma non importa. Chiedi a parlare di prigione? Nel nostro gruppo, siamo orgogliati di accettare qualcuno che ha avuto un po' di scopo. Ma... Io... Non preoccuparti, l'agrava di Aritake è già un paio di mischi. Cosa pensi che potresti fare il nostro stile? Abbiamo affrontato con i Kairaghi e le persone che hanno preso. Mi chiedo che voi due di voi si finiscono. Sto parlando. Takuya, basi sulle nostre investigazioni, io sono rilassato che sei a te attraverso per scopo di persone e propria. Non proviare a resistere. Tutti i articoli saranno accettati. Ciò significa che ci saranno tutti i miei che ti passate a te i tui. Non! Non! Non senza i miei miei miei... Non è bene, Takuya. I miei 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 non appartano a noi. Non preoccuparti, dovrei aiutare i miei miei miei. Ora che vedo la situazione, vorrei sicuramente assicurare che non si trattano ancora. Potremmo mettere i miei 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 suoi. Tu sei anche sotto arresto, per molti attraversi aiutare dei servizi di Tenryo. Oh! Ha, credo che ho scoperto. Ma non preoccuparti, faccio la mia squadra sul caso. Miei 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 miocchi prendono bene le bluoni. Sì, abbiamo già arrestato loro anche. Oh! Sì, sì! Uh... 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 That's what they care for resisting the Tenryo Commission. Uh... 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 Grazie. E grazie per attraversare con me fino alla fine. Una volta che sono fuori della Slammer, potremmo un modo per farlo con te. As per te due, Lontare loro il vostro aiutare, quando sapete completamente bene che erano erano le wrongi, significa che la culpabilità si tratta anche a te. Ma... Giveni le vostre unico circunstanti, e in grado della complessità di questo caso, non ne prenderemo le domande questa volta. Eh... Sorry for the trouble. Hey! Wait! Unico circunstanti? Are questi ragazzi, come... Big deal o qualcosa? Oh, sì... Ok. Ahaha. Cool, 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 cool. I was going to say, you know, I'm kind of a big deal myself, you know? All right. See you next time. When ever that will be. Abbiamo finito questa avventura, quindi. Quasi. Well, he's pretty! Allora, prima andiamo a recuperare tutta la vita. Qua, intanto. Dovelo come... Che! Oh... Ecco. Unico! Come... Che! 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 No! Che! Grazie a tutti. 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 Scusate ma perché mi dice che ho un problema... Usate stacco nativo... Attacco... Come da qua... Ciao... 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 Ciao...